Germania. Reduce, reuse, recycle. Architecture as resource. Le tre R per una nuova scala di valori da applicare agli edifici esistenti. Al minor numero di cambiamenti e al più basso consumo corrisponde il miglior processo. Valutare l'esistente è il miglior punto di partenza per un approccio corretto. Grazie a tutti.